La carica dei 10.000, un team di comunicazione che gestisce la pagina Instagram IG Gubbio ha raggiunto il traguardo dei 10.000 followers, aggiudicandosi il titolo di città umbra più seguita sulla piattaforma. La pagina ufficiale della comunità Instagram di Gubbio, gestita da un team di ragazzi gubini, proprio nella mattinata di sabato 23 febbraio ha di fatti raggiunto e superato la soglia dei 10.000 seguaci sul social network del momento e a spiegare i segreti e le peculiarità di un risultato di assoluto prestigio per la piattaforma ci pensano Marco Biccari e Paolo Villani, due degli otto componenti della giovanissima squadra di Gubbio. Instagram è sicuramente un social che premia gli utenti più attivi, vale a dire gli utenti che fanno più commenti, gli utenti che mettono più mi piace, che seguono più persone e diciamo la nostra costanza nel gestire la pagina e lo stare attivo durante tutto il giorno ha portato la pagina a crescere e a tenere questi risultati ottimi diciamo. La comunità gubina è molto attiva, c'è una nicchia che è sempre disposta a mettersi in mostra e quindi a mostrare il bello della nostra città, oltre a questo abbiamo anche una città turistica che è visitata quotidianamente da persone che sono attive sul social, quindi postano foto e taggano la pagina e questo ovviamente crea un flusso di contenuti inestimabili insomma che aumenta giorno dopo giorno. L'account dunque svolge quotidianamente il lavoro di promuovere, pubblicizzare e valorizzare la città ripostando le foto degli scorci più suggestivi e caratteristici del borgo medievale Umbro scattati dagli utenti Instagram. Attraverso le celebre stories la pagina informa i cittadini sugli eventi di maggior rilievo nella comunità e negli ultimi due anni i Gubbio organizzate e curato eventi che hanno contribuito ad aumentare la popolarità e il turismo della città. Il team, che gestisce anche la pagina Instagram di Assisi, Altra Meraviglia, Urbana Umbra, nel 2017 ha reso possibile la realizzazione del primo meeting per Instagram Mersagubbio portando ben 3 milioni di visualizzazioni alla città in una sola giornata nell'anno successivo. Stesso appuntamento ma con un tema più rilevante, la storia degli antichi mestieri. Si è valorizzato il territorio locale partendo dall'artigianato, dalla tradizione e dalle basi storiche della città. Ora il traguardo di 10.000 followers che si spera possa divenire un punto di partenza per la città sui social con l'auspicio di poter festeggiare il raggiungimento di altre cifre rimarchevoli anche grazie a progetti futuri e in via di definizione, sempre con la mission di divulgare la bellezza, la qualità e l'apprezzabilità del territorio locale. Ci sono molte idee, tante belle proposte, torneremo sicuramente in campo con qualche evento rilevante e che spero porterà molta visibilità a questa splendida città che rappresentiamo.